La piazza è bellissima soprattutto vedere i bambini qui che possono inaugurare la piazza perché questa è una piazza soprattutto dove battono i cuori dei bambini e con la presenza del Redentore qui nel centro estivo inauguriamo per la prima volta questo momento con tutti voi e vi ringraziamo tutti, collino di Don Bosco Questa è Piazza Redentore, i lavori sono terminati, un'area pedonale tra una scuola e un oratorio abbiamo tolto questo spazio dell'automobile, abbiamo destinato alle famiglie, ai bambini che queste sere anche se non era stata inaugurata ma soprattutto stamattina dopo l'inaugurazione stanno giocando sulle giostre, un intervento importante nella città non tanto per l'architettura della piazza o per i materiali utilizzati quanto per il valore simbolico questo è il simbolo delle sfide impossibili, niente è impossibile, sembrava impossibile togliere le automobili sembrava impossibile chiudere una strada, realizzare un'area pedonale, ce l'abbiamo fatta questa città deve credere di più in se stessa perché se crede in se stessa potrà cambiare la città stessa Grazie 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 Grazie